Pace bene cari fratelli e sorelle, bentrovati! Perché fatichiamo ad ammettere le nostre fragilità? Cosa operano in noi la misericordia e il perdono di Dio? Proviamo a vivere una sorta di revisione del cuore alla luce del meraviglioso incontro tra Gesù e la donna adultera. Gesù sta insegnando nel tempio. Ad un certo punto Scribi e Farisei gli conducono una donna colta sul fatto mentre stava tradendo il marito e gli chiedono. Maestro, Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova. Qual è il loro atteggiamento? Duro, tagliente, senza misericordia. Potremmo dire che hanno strumentalizzato la legge di Dio per fini di male, accusare Gesù che è Dio stesso, riducendo la parola di Dio a una sentenza di morte e i comandamenti a delle pietre da scagliare in testa alla gente che sbaglia. La povera donna è messa nel mezzo, ridotta ad un oggetto da giudicare, identificata con la sua colpa, spogliata insomma di ogni dignità. Gesù cosa fa? Non cade nel tranello di dare risposte facili. Prima di parlare cambia posizione, abbandona il seggio dove era seduto mentre insegnava e si china a terra, mettendosi significativamente al livello più basso di tutti. Rinuncia al ruolo di giudice che volevano affibbiargli. Si pone davanti a quella donna da un'altra prospettiva, dal basso verso l'alto, ridonando le dignità e ripete quel gesto due volte, quasi a voler invitare e coinvolgere i suoi interlocutori e noi in quel medesimo cambio di prospettiva. Ci farà bene chiederci, di solito, da quale posizione guardiamo gli altri? Specie chi sbaglia, chi fatica, chi è più fragile? Dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto? Con superbia sentendoci migliori o con umiltà sapendoci peccatori? Gesù dunque si china e si mette a scrivere con il dito per terra, polarizzando l'attenzione su di sé. Tutti lo fissano e ad un tratto Gesù alzandosi dice chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra e chi natosi torna a scrivere. Gesù li fa rientrare in sé, invitandoli a fare i conti con il proprio peccato, con le proprie magagne interiori. A questo punto iniziarono ad andarsene tutti, dal più anziano al più giovane. Eh sì, l'età dovrebbe aiutare a maturare misericordiosi atteggiamenti visti tanti fallimenti. Dunque, miei cari, l'atteggiamento giudicante e condannante di scribi e farisei viene meno nel momento in cui davanti al Signore iniziano a fare i conti con se stessi, come a dire quanto è importante avere la giusta consapevolezza di sé davanti a Dio. Perché ciò accada abbiamo bisogno di coltivare e chiedere in dono l'umiltà, coltivando la preghiera, l'esame di coscienza, il sacramento della riconciliazione. Infatti, le resistenze interiori al riconoscimento di ciò che in noi non va non mancano. Dobbiamo dire che noi in genere abbiamo un rapporto distorto con il male. Padre Cencini diceva che da un lato ci attrae, dall'altro fatichiamo ad ammettere le nostre fragilità ricorrendo a mille stratagemmi per toglierci di dosso l'impressione di aver sbagliato. Lo strano è che scambiamo ciò per desiderio di perfezione. Ci proclamiamo ad esempio peccatori, ma non ci sentiamo realmente tali. Oppure ci sentiamo come schiacciati dal peccato. Per paura che venga meno la buona considerazione di noi stessi, tendiamo a relegare ciò che di noi non va nell'inconscio, preferendo non guardarlo. Magari si danno vezzeggiativi, riduttivi alle cose che si commettono, peccatucci, cosine quotidiane, vizietto, così da non intaccare più di tanto la propria responsabilità e l'immagine di sé. Un meccanismo comune che si può mettere in atto a questo punto è quello del capro espiatorio, cioè si identifica il male negli altri e si proietta sugli altri il male che portiamo dentro. E ad esempio leggiamo come egoistici degli atteggiamenti che non sono, ma questa lettura viziata viene dall'egoismo che noi abbiamo dentro. Come accorgerci di questa proiezione? Ad esempio siamo molto rigidi e ripetitivi nel giudizio, lasciando poche o nulle speranze alla possibilità di un miglioramento in chi abbiamo accanto. Oppure abbiamo una accentuata in sofferenza dell'altro, la cui semplice presenza ci dà fastidio. Questa rapida carrellata, miei cari, è per farvi comprendere come siamo complessi e quali meccanismi possiamo mettere in atto per autodifesa. In alcuni casi, specie per le persone più anziane, può diventare una sorta di ignoranza invincibile, cioè una persona non riesce proprio a vedersi nella verità e ci vuol tanta pazienza perché non lo fa per male, semplicemente non riesce. Noi abbiamo davvero bisogno del dono dell'umiltà per riconoscerci per ciò che siamo davanti a Dio. D'altronde, di cosa dovremmo aver paura? Dio ci ama profondamente e le nostre fragilità ci attirano ancora più la sua tenerezza, dunque coraggio. A tal proposito, quanto fa bene esaminare la propria coscienza. A fine giornata, mettersi in preghiera davanti al Signore e dopo averlo ringraziato per ciò che ci ha dato da vivere, ripercorrere la propria giornata. Non fermiamoci solo alle azioni cattive o alle omissioni del bene, ma esaminiamo la coscienza, le motivazioni che ci hanno spinto ad agire o meno. Perché ho fatto questa cosa? I sentimenti coltivati nel cuore. Magari non abbiamo preso male parole a nessuno, ma abbiamo borbottato come delle caffettiere tutto il giorno. Setacciamo la nostra coscienza e non temiamo di portare a galla i sassi dei nostri peccati. Presentiamo quindi ogni cosa al Signore, affidandoci alla sua misericordia e riproponendoci di far meglio dagli indomani. Meglio ancora se focalizziamo l'attenzione su un punto in particolare e con pazienza vi lavoriamo sopra. Torniamo ora al testo e vediamo l'esperienza liberante del perdono di Dio. Tutti se ne andarono, rimasero solo la donna e Gesù. Allora Gesù si alzò e le disse, donna dove sono? Nessuno ti ha condannata? Ed ella rispose, nessuno signore. E Gesù, neanche io ti condanno. È una parola potentissima. Lasciarci toccare dalla misericordia di Dio, aprirci al suo perdono. Significa poter essere liberati da ogni condanna esteriore, da ogni ingiunzione interiore, da ogni senso di colpa, da ogni diabolica accusa. Perché Dio è più grande. Dio è più grande del nostro peccato. Dio è più grande anche della nostra coscienza. Dio non ci inchioda al nostro peccato. Abbiamo un nome e Dio non identifica il nostro nome con il peccato che abbiamo commesso. E il peccato non può distruggere la sua immagine che richiamo impressa nel cuore. E Gesù dunque disse, neanche io ti condanno. Va ed ora in poi non peccare più. Gesù, vedete, non umilia questa donna, che dal canto suo non si giustifica. Avrebbe potuto dirle come al paralitico, i tuoi peccati sono perdonati. No, la rialza, ricoprendola di tenerezza, dicendole solo, vai e non peccare più. E qui, ci ha detto il Papa, si vede l'atteggiamento misericordioso di Gesù. Difende il peccatore da una giusta condanna. Questo vale anche per noi. Quanti di noi forse meriterebbero una condanna? E sarebbe anche giusta. Ma lui perdona con questa misericordia che non cancella il peccato. È il perdono di Dio che lo cancella, mentre la misericordia va oltre. È come il cielo. Noi di notte guardando il cielo vediamo tante stelle, ma quando viene il sole al mattino con tanta luce, le stelle non si vedono più. E così è la misericordia di Dio, una grande luce di amore, di tenerezza. Perché Dio perdona non con un decreto, ma con una carezza. E allora la donna può rompere anche con il peccato. Va e non peccare più. Hai sperimentato l'amarezza del male, la vergogna che ne deriva, ma soprattutto hai sperimentato la dolcezza del mio amore. Vai, ora puoi non peccare più. Perché la tua solitudine è stata infranta dal mio amore. Perché la tua miseria è stata toccata dalla mia misericordia. Vai, risorgi. E da oggi vivi una vita nuova. In conclusione, miei cari, vi lascio con una testimonianza. Un'esperienza vissuta dal cardinale Comastri negli anni settanta, quando era ancora un giovane sacerdote. Un carcerato non riusciva a credere che Gesù fosse pronto a perdonarlo e non si sentiva pronto a ricevere il suo perdono. E chiedeva, il Signore avrebbe perdonato anche Giuda e Don Angelo. Ma non c'è dubbio. I Vangeli non ci parlano del pentimento di Giuda, ma se chiaramente fosse andato da Gesù, l'avrebbe perdonato con tutto il cuore. Se fosse andato ai piedi della croce, avrebbe sentito Gesù per donare anche un ladrone, dunque un assassino. Lui rimase colpito. Dopo diversi mesi venne e disse Don Angelo, ho scritto una preghiera. Sentite quante bella la preghiera scritta da questo carcerato. Giuda, fratello mio, nella strada fangosa di questo mondo io cammino insieme a te, come te, adoratore del denaro. Come te la mia mano stringe nervosamente la mollezza carnale della vita senza nostalgia di risurrezione. Trenta denari. Comprano il figlio di Dio nel commercio stupido di questa fredda bottega umana. Trenta denari. È il tuo dramma. È il mio dramma. Giuda, fratello mio, non ti condanno più. Soffro con te, insieme a te, senza pudore. Interrogo anche io l'uomo innocente e gli dico, maestro, sono forse io il traditore? E sento il tonfo di uno schiaffo sul volto di Dio. E la voce buona di un Dio tradito mi sconvolge, perché io, l'egoista, non voglio. Mi fa paura un amore che resiste anche al tradimento. E tu mi dici, amico, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo? Oh Dio, lasciami gridare per questo scandaloso amore che hai per me, per l'uomo, per il traditore. Lasciami per un momento bestemmiare, imprecare per questa follia, questo amore ingiusto, eccessivo. Lasciami per un momento. E poi mi piego e piango, con Pietro, l'apostolo che ti rinnegò, con Maddalena, la prostituta santa. Piango, piango la sorte del tuo amore, crudelmente, continuamente tradito da quest'uomo, da questo Giuda che sono io. E sento la tua voce. Con un bacio tradisci il figlio dell'uomo? Don Angelo si commosse fino alle lacrime. Questo detenuto gli si inginocchiò davanti. Don Angelo alzò la mano per dire le parole del perdono. Il detenuto gli prese la mano, la riempì di lacrime e disse, Don Angelo, chiedo perdono. Io vivo ancora quel momento, il male che ho fatto. La mano di Don Angelo tremava e disse, io ti assolvo dai tuoi peccati. Sentì una gioia immensa. Sentiva che Gesù lo attraversava ed era lui ad abbracciare quel detenuto. E ricordando quel che Don Angelo aveva sempre pensato, che Pietro fosse andato dalla Madonna a farsi asciugare le lacrime, gli disse, preghiamo insieme un Ave Maria? Pregarono. Al termine il detenuto gli disse Don Angelo, la Madonna oggi ha abbracciato Giuda. Quanto sono contento. Uscì felice da quella celletta. Il perdono gli aveva cambiato la vita. Che il Buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.